dammi un parere sul corso ti è piaciuto? molto buono sì sì veramente molto buono sì uno dei migliori sicuramente che ci sono in giro perché comunque vabbè non c'era solamente il video da guardare ad esempio io mentre guardavo il video facevo allo stesso tempo gli esercizi quindi sicuramente è buono molti dei corsi non hanno gli esercizi ed è altrettanto buono che ci sia una certificazione finale perché di solito quella è richiesta senza la certificazione finale molte aziende probabilmente non si fidano neanche del fatto dello svolgimento del corso hai fatto anche lezione 1 a 1 con Aurelio quello no quello per fortuna non ne ho avuto bisogno però è positiva anche quella cosa lì io per fortuna non ne ho avuto bisogno quindi me la sono cavata con i video registrati ok comunque hai sempre a disposizione il docente tu per un anno dall'iscrizione tutte le volte che vuoi ti puoi pronotare comunque anche dopo aver dato l'esame ti puoi pronotare le lezioni quando vuoi perché hai comunque diritto alle tue lezioni 1 a 1 quindi benissimo non è che perché hai dato l'esame questo si si stoppa quindi anche se in futuro ti metti a usare tutte le cose che hai visto durante il corso eccetera hai bisogno di una mano di un chiarimento oppure vai al lavoro e non ti torna qualcosa o per i tuoi file personali insomma il docente c'è sempre tu vai nella tua area privata e ti pronoti le lezioni quando vuoi certo perfetto meglio di così comunque sono soddisfatto bene come sei arrivato a noi come ci hai trovato ho trovato ho trovato per caso su internet stavo cercando un corso con certificazioni di Excel e ho trovato lui puramente casuale la cosa c'erano delle recensioni erano positive e niente non sono iscritto